Ciao a tutti da Saludatore, eccomi qui con il ricadissimo Marco Fois, si è appena tuffato insieme agli altri tre mister Ok, primo gennaio 2015, buon 2015 a tutti quanti, direttamente da Ponte Cavour, Roma, ciao, salutatore e dalla Tramontana, oggi grande sfida, vi chiamo e sono stati forti, complimenti, ciao, ciao a tutti, salutatore, Marco Fois